Dopo due anni di intensa attività investigativa, la procura distrettuale antimafia di Catanzaro è riuscita a colpire al cuore la famiglia Iannazzo e il clan satellite Cannizzaro da Ponte, la cosiddetta Andrangheta imprenditrice. L'operazione Andromeda è eseguita all'alba di oggi dalla squadra mobile di Catanzaro diretta da Rodolfo Ruperti con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma, che ha portato a 36 dei 45 provvedimenti cautelari firmati dal GIP Domenico Commodaro, rivela il potere di una cosca riconosciuta ormai autonoma nel Lamitino, capace di arrivare anche in Svizzera e di tessere rapporti con l'Andrangheta Regina, quella dei Pesce Bellocco e dei Mancuso di Limbadi. Tra gli arrestati c'è anche l'imprenditore Francesco Perri, proprietario del centro commerciale Due Mari di Maida, sarebbe stato proprio il noto imprenditore, ora accusato di associazione mafiosa, a tentare di fare gambizzare il fratello Marcello Perri per questioni di eredità. In manette, fra gli altri, il boss Vincenzo Iannazzo, il fratello Giovanni, un medico dell'aeroporto di Lamezia, Raffaele Caparello, che curava gli interessi della cosca. Agli indagati vengono contestati a vario titolo l'associazione a delinquere di stampo mafioso, una serie di estorsioni ai danni di imprenditori, episodi di traffico d'armi, ma anche omicidi. In particolare, è stata fatta luce sull'omicidio di Vincenzo Torcasio, all'epoca reggente dell'omonima cosca, ucciso nel maggio del 2003 davanti al commissariato di Lamezia Terme. Il presunto killer, Gennaro Pulice, è stato arrestato in provincia di Alessandria.